Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV in apertura alla cronaca. Torniamo a parlare dell'omicidio di Fogliano della Chiana. I carabinieri hanno ritrovato il cellulare della donna uccisa e adesso sarà al vaglio degli inquirenti il suo contenuto. Proseguono le indagini sull'omicidio di Fogliano della Chiana. Adesso è stato rinvenuto il cellulare della vittima. Letizia Girolami, 72 anni, psicologa, era stata uccisa nella propria tenuta nel pomeriggio del 5 ottobre. A confessare l'omicidio era stato il 37enne ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana. L'uomo si trova in carcere. Dopo un servizio di rastrellamento operato da noi carabinieri della stazione di Fogliano della Chiana, del nucleo operativo della compagnia di Cortona e sotto la direzione attenta della procura della Repubblica di Arezzo, siamo riusciti ad individuare il telefonino della signora. Era celato all'interno di uno dei laghetti dell'area di interesse, sotto il fango che nel frattempo si era irrigidito, si era un po' seccato. Lo abbiamo individuato grazie all'utilizzo di un metal detector di personale specializzato da noi interpellato. Sperate ovviamente che possa celare qualche notizia, anche dei rapporti che c'erano tra la vittima e il presunto omicidio. Sì, nei prossimi giorni il telefonino individuato verrà sottoposto a degli accertamenti, verrà effettuata una coppia forense, poi analizzeremo il traffico telefonico, le fotografie e i filmati eventualmente presenti all'interno dell'apparato. Il 37enne risiedeva in una depandanza di proprietà della vittima da oltre un anno. I due avrebbero avuto un diverbio in merito ad alcuni pulcini di pavone scomparsi. Il 37enne alla fine avrebbe colpito la donna alla testa con un attrezzo da lavoro agricolo. Rispetto all'arma del delitto è stata ovviamente sequestrata, è stata affidata ad un perito che sta effettuando le analisi sulle tracce biologiche rinvenute sulla stessa. Aspettiamo gli esiti. E' finita a Frosinone la fuga di due truffatori che a Monte San Savino avevano raggirato una coppia di anziani per poi scappare con soldi e orologi. La vicenda risale allo scorso sabato quando la coppia a Retin è stata contattata da due truffatori che hanno messo in scena il raggiro del finto carabiniere. I due anziani hanno denunciato la truffa ai carabinieri di Monte San Savino e subito sono scattati i controlli. L'auto sulla quale viaggiavano è stata così intercettata a lungo la 1 all'altezza del casello stradale di Cassino in provincia di Frosinone dalla polizia stradale. Dopo un folle in seguimento durante il quale i truffatori hanno anche travolto la sbarra del casello, sono stati fermati e trovati in possesso di tre orologi Rolex, una busta contenente diversi monili d'oro e 540 euro in contanti. Gli anziani coniugi derubati hanno riconosciuto sia l'oro che gli orologi ritrovati. I due truffatori sono stati così arrestati e trasferiti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. In Valtiberina Badia Tedalda invece una brutta disavventura per un'ottantenne che è stato salvato grazie ai suoi due cani. L'anziano infatti era rimasto ferito in mezzo al bosco ed ha passato una notte al ghiaccio. Gli animali però non lo hanno mai lasciato solo. L'uomo senza cellulare per chiedere l'intervento dei soccorsi è stato trovato la mattina successiva grazie ai cani che hanno risposto ai richiami dei soccorritori abbaiando. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasferito il ferito all'ospedale della Valtiberina dove attualmente si trova ricoverato per tutti gli accertamenti medici del caso. Nell'ultimo fine settimana ci sono state invece 15 intossicazioni in tutta l'area vasta, l'asla toscana sud-est. Un bilancio non leggero, quello dell'ultimo weekend che ha visto impegnati i tecnici micologi del Dipartimento della Prevenzione e Supporto del Pronto Soccorso dell'asla toscana sud-est. Vediamo quali sono i consigli. Sono in tutto 15 le persone rimaste intossicate dopo aver ingerito funghi, 6 sono retini, 8 senesi e un grossetano è quanto accaduto nello scorso fine settimana in tutta l'asla toscana sud-est che ricorda a tutti come il servizio micologico per riconoscere appunto i funghi eventualmente tossici sia sempre attivo e a disposizione dei cittadini. Rimanendo in tema di funghi, sono sempre più frequenti anche gli incidenti che si verificano nei boschi dell'aretino soprattutto nel fine settimana. L'ultimo in ordine di tempo, un ottantenne caduto in una scarpata, ferito ad una gamba, dovuto trascorrere la notte in mezzo al bosco, lo hanno salvato i suoi cani che lo hanno protetto da eventuali attacchi di animali selvatici e scongiurato l'ipotermia. Per questo il soccorso alpino ricorda che prima di avventurarsi è sempre necessario avere ben presenti le proprie capacità. Quando uno va a fare un'escursione non è tutto facile quello che dicono i social per arrivare in un posto, bisogna capire anche la propria prestazione se può arrivare lì. E' uguale anche per i funghi, perché la gente entra e i boschi sono ripidi, ti devi risalirli e a volte la fanno, ti senti malore, ti senti lì che non ce la fai più. Tanti affaticati vengono recuperati anche da noi. E questo è importante, capire quello dove si può arrivare. Fondamentale anche conoscere bene le previsioni meteo e poi c'è Georesc, una app che consente di essere tracciati. Posizione e poi chiaramente c'è il tracciami e questo è il puntino dove cliccando parte. Chiaramente ci vogliono i dati, però il tracciami ti può indicare i vari tratti dove c'è il segnale. E questo vanno tutti in una centrale H24, una in Sassari e una in Irpinia nostra, che sono sempre attive, e loro registrano continuamente queste tracce. Per cui è un aiuto molto importante. Chiaramente se non c'è linea, non si sa dov'è, allora bisogna trovare la macchina, poi entrano in funzione i cinofili. L'importante è avere informazioni, perché queste ti aiutano molto. E in caso di temporale, stare negli spazi aperti. Chiaramente il fulmine non si sa dove può cascare. L'importante è non mettersi sotto le piante, allontanare gli oggetti di metallo, e prendere l'acqua, nel senso stare all'aperto. Stare all'aperto perché è l'unica situazione più sicura. Gli animali? Ma gli animali, chiaramente, è difficile che vengano a dare noia. Cioè, si è successo di persone che la notte si sentano circondati da cinghiali. Ma gli animali scappano, anche i lupi, voglio dire. Io giro spesso, ma anche loro spesso. Ma anche i lupi tendano a evitare l'uomo. Sono più difficili forse i cani. Ecco, i cani magari bisogna stare un po' più attenti. Novità per contattare il servizio di continuità assistenziale anche in provincia di Arezzo. A partire dal prossimo 21 ottobre sarà infatti attivo il nuovo numero unico europeo. Questo numero unico consente una importante sburocratizzazione del processo in modo tale da garantire maggiore prossimità, maggiore cura, maggiore efficacia, maggiore efficienza. Da lunedì 21 ottobre la Guardia Medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale, risponderà al nuovo numero unico europeo 116117 anche nei territori di Arezzo, Grosseto e Siena. Si tratta di un numero unico gratuito raggiungibile attraverso fisso cellulare che dovrà essere digitato per le cure non urgenti. Questo numero è un numero unico regionale. Parte dalle ore 20 del 21 ottobre per le province di Arezzo, Siena e Grosseto tutti i cittadini che hanno bisogno di cure sanitarie non urgenti in una prima fase per il servizio di Guardia Medica dovranno fare questo numero. Questo numero gli consentirà attraverso molte linee telefoniche l'accesso a una centrale operativa ubicata a Firenze che valuterà la richiesta e se necessario la smisterà sul territorio ai medici di Guardia Medica oggi presenti sul territorio aziendale. Dalle 20 del prossimo 21 ottobre la cittadinanza potrà dunque chiamare il nuovo numero unico per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nei giorni di festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno operiale. Il primo evidente vantaggio è legato proprio alla possibilità di poter avere un'unica porta di accesso rappresentata da un numero che è lo stesso su tutto il territorio regionale anziché tre diversi numeri che ad oggi il cittadino deve contattare per accedere al servizio di continuità assistenziale quindi un numero unico, più semplice da ricordare e che è anche orientato, oltre che a una semplificazione anche ad una maggiore equità di accesso. Infatti sia la centrale che il Medici potranno contare su un servizio di interpretariato multilingua che consentirà, visto che le nostre aree sono anche ad alta intensità di flusso turistico di dare le stesse opportunità di accesso anche a coloro che potrebbero essere svantaggiati da situazioni linguistiche o di altra natura. Sarà ad esempio possibile convertire la conversazione telefonica anche in una conversazione chat qualora questo si rendesse più funzionale rispetto alle esigenze del cittadino. Ci spostiamo adesso in Valdarno. È stato infatti convocato dal prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si svolgerà il 7 novembre alle 10.30 nella Sala Grande di Palazzo D'Arnolfo. Al tavolo, oltre al prefetto, si daranno il questore di Arezzo i sindaci del Valdarno Aretino e i rappresentanti delle forze dell'Ordine ed infine anche la portavoce delle categorie economiche produttive. Nello scorso incontro della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno Aretino era stato infatti affrontato il tema della sicurezza nel territorio ed era merza tanta preoccupazione seguito dei numerosi fatti di cronaca che si erano verificati nell'ultimo periodo ad anni di cittadini ed imprese proprio nel territorio comunale di San Giovanni Baldarno. E restiamo a San Giovanni dove continuano le visite periodiche del primo cittadino nei cantieri aperti della città per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. Dal nuovo nido di Ponte alle Forche alla scuola elementare Rodari dal polo scolastico 06 Cagliani al teatro comunale Bucci continuano le visite periodiche del primo cittadino di San Giovanni Baldarno assieme ai tecnici comunali nei cantieri aperti della città per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. Siamo stati al Ponte alle Forche per il PNRR del nuovo nido di infanzia Rodari e il cantiere è ripreso e quindi le lavorazioni sono nell'ambito del cronoprogramma che ci siamo dati poi dopo allo 06 Cagliani quartiere del Bani sicuramente è il progetto che abbiamo più avanzato la scuola sta praticamente prendendo forma complessiva addirittura stavano montando tutte le strutture per il fotovoltaico sul tetto poi un soprallogo importante in via Bolzano dove un intervento sulla viabilità ha consentito una fluidificazione soprattutto del traffico in un'area densamente appunto trafficata per la presenza degli impianti sportivi delle scuole e via dicendo adesso qui siamo al Teatro Bucci il cuore di San Giovanni Valdano un altro bando PNRR anche qui le lavorazioni seguono il cronoprogramma è uno dei canteri più attesi della città è un teatro che è chiuso dal 2015 quindi da tanti anni noi stiamo lavorando insieme alla ditta insieme alla direzione dei lavori perché l'obiettivo che ci siamo prefissati ossia di rispettare la fine dei lavori entro il cronoprogramma del PNRR perché poi è un obbligo di legge quindi entro la fine del 2025 che possa essere rispettata e restituirà poi alla cittadinanza quello che era il vecchio teatro in una veste nuova in una sala che è moderna ma è moderna non solo da un punto di vista estetico ma anche delle finiture dello studio dell'acustica se si guarda in particolare appunto alle finiture sono state studiate anche una progettazione acustica dedicata non semplicemente un aspetto estetico il punto infine anche sul progetto privato che riguarda il complesso di Borgo Arnolfo collocato proprio alle porte del centro storico della città i lavori sono ripartiti ormai perché nella precedente consigliatura è stato intrapreso un procorso importante in cui anche l'amministrazione comunale ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale e vedete i primi effetti alle mie spalle si cominciano a vedere gli scheletri di quelli che saranno le abitazioni future di San Giovanese e spero anche non solo di San Giovanese qui siamo all'ingresso del centro storico e riqualificare quest'area significa dare dignità e riconsegnare una parte importante di città e centro storico a San Giovanese da oggi è possibile accendere i termosifoni sentiamo i consigli di Fed del Consumatore per non incorrere in brutte sorprese ecco siamo in pieno autunno diciamo ci si torna a preoccupare ecco dell'aumento della bolletta più che altro per ragioni di consumo ma quali sono le cose a cui dobbiamo stare attenti? allora innanzitutto le solite quindi prima di accendere i termosifoni che ricordo ad Arezzo si può iniziare ad accendere da oggi siamo graziati ancora dal buon tempo però innanzitutto fare la verifica dell'impianto quindi alcune verifiche sono obbligatorie controllo fumi quindi assolutamente un impianto che funzioni in maniera corretta dopodiché ovviamente tenere costante la temperatura ricordiamoci che la quella ottimale sarebbe i 18 gradi un consumo basso e costante è la cosa migliore è come per le macchine se noi andiamo a una velocità costante e bassa consumiamo meno la stessa cosa accade per le caldaie quindi per i termosifoni un'altra cosa importantissima è fare la verifica delle fatture obbligatoriamente siamo stati transitati chi non aveva requisiti la vulnerabilità nel mercato quindi libero a meno che non abbiamo optato per le offerte Placet quindi però cosa possiamo fare noi abbiamo visto statisticamente che le variazioni contrattuali vengono comunicate nel periodo di fine dicembre inizio inverno in modo che siano operative dalla primavera in maniera tale che purtroppo le persone quindi con l'avvento della stagione buona non si rendono conto della variazione contrattuale quindi prima di accendere i termosifoni assolutamente controllare le fatture se la tariffa e il contratto applicate è lo stesso dell'anno precedente fedel consumatori a disposizione prima di accendere i termosifoni verifichiamo le fatture verifichiamo che non ci sia stato ad esempio una mancata comunicazione o ci sia sfuggita la comunicazione delle variazioni contrattuali questo è importantissimo perché statisticamente abbiamo rilevato questo dopodiché le persone contrariamente a ciò potrebbero trovarsi delle amarissime sorprese chiude dopo 50 anni di attività in Valdarno la comunità Emmaus Laterina a chiudere i battenti anche lo storico mercatino solidale di Ponticino mancanza di introiti inagibilità della struttura di accoglienze scarso interesse delle istituzioni le motivazioni principali il sindaco di Laterina Pergini in estremo tentativo aveva cercato anche un dialogo con provincia e regione noi chiuderanno però le comunità che erano nate grazie ad Emmaus e che si sono rifatte una vita c'è infatti tutta l'esperienza del forum del terzo settore ad Arezzo l'esperienza della Bosnia che sta continuando i progetti di solidarietà in Africa e in America Latina ed intanto tutti gli oggetti ancora presenti nel mercatino saranno donati alle associazioni del territorio in Casentino invece questa mattina alla presenza delle due classi dell'Isis Fermi di Bibbiena accompagnati dai docenti si è svolta la presentazione del libro Una stella di nome Gabriele una raccolta di racconti fatti sui ricordi di 53 tra amici, docenti e persone vicine a Gabriele Lusini giovane prematuramente scomparso in circostanze tragiche rimase infatti folgorato mentre stava pescando all'imbocco della ciclopista dell'Archiano a Soci i ricordi di queste persone sono stati raccolti e rielaborati dalla casentinese Marina Martinelli i fondi raccolti dalla vendita del libro saranno destinati dai genitori del ragazzo e alle associazioni di volontariato del territorio già lo scorso anno a Soci era stato inaugurato un defibrillatore semiautomatico per salvare vita umane installato non molto lontano dal luogo della tragedia ad Arezzo invece è tornato dopo 5 anni di stop il pranzo sociale di Avis dopo 5 anni Avis Arezzo torna a festeggiare la solidarietà è infatti tornato l'atteso pranzo sociale per i donatori un momento di condivisione e riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito a garantire una risorsa preziosa per la comunità il sangue abbiamo avuto anche una serie di esempi ma abbiamo avuto testimonianze anche di chi ad esempio è un ex donatore di chi poteva donare ora magari per motivi di salute non può più donare ma porta comunque avanti la sua la sua testimonianza il suo lavoro non è assolutamente meno prezioso durante le premiazioni si sono alternati giovani donatori a donatori esperti c'è chi addirittura ha festeggiato i 40 anni di attività e ben 137 donazioni sono contento di aver raggiunto questo traguardo mi dispiace un po' perché per motivi di salute non posso più donare altrimenti avrei voluto continuare a donare perché donare è importante si salva a volte si salva delle vite anche non sapendolo però perlomeno si migliora la vita di qualcuno grazie a miei genitori ho iniziato a donare nel 2018 e mi portavano già da piccola con loro per abituarmi diciamo all'ambiente alle dottoresse alle infermiere e da lì è stato naturale all'età di 18 anni ho iniziato e non ho più smesso donare ti fa sentire bene a te stesso che sai che aiuti altre persone ma loro non lo sanno quindi è un riconoscimento che però non può essere apprezzato da quegli altri che non sanno chi sei l'associazione culturale Noi delle Scarpe Diverse ha rinnovato la collaborazione con il pronto donna centro antiviolenza con l'obiettivo di promuovere una serie di incontri in scuole di diverso grado del territorio comunale per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità andando a promuovere la piena emancipazione a contrasto di stereotipi e discriminazioni il percorso inserito all'interno del progetto la violenza non età prenderà il via da mercoledì 16 ottobre con il primo laboratorio spettacolo rivolto ai bambini e alle bambine della classe primaria della cassa superiore è un altro appuntamento rivolto ai più piccoli torna in città dal 18 al 20 ottobre si tratta dell'ottava edizione del festival meno alti dei pinguini promosso dalla cooperativa progetto 5 curato da caserma archeologica con il patrocinio e il supporto della regione toscana comune d'Arezzo fondazione Arezzo comunità lega cop e azienda sanitaria asla toscana sud-est il festival come sempre è dedicato all'infanzia 06 e offre tre giornate all'insegna della scoperta della creatività della partecipazione puntando a coinvolgere non solo i bambini ma anche persone di tutta l'età quest'anno la maggior parte dei laboratori infine non prevede prenotazione ma molte delle attività sono all'ingresso continuo secondo l'ordine di arrivo e sempre ad Arezzo proseguono anche le celebrazioni vasariane e il museo della fraternità dell'Aicea ha così indetto una colpe artisti e fotografi al fine di realizzare una mostra collettiva di opere che si terrà dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 il tema delle opere per la mostra collettiva sarà Giorgio Vasari le sue opere e l'impatto culturale che ha lasciato alla nostra città potranno partecipare tutti gli artisti con delle opere di grafica pittura fotografia illustrazione e collage e adesso la pagina dello sport Mattia Falciani dell'Alga Atletica Arezzo è campione toscano di prove multiple dell'anno 2012 l'atleta impegnato nella categoria ragazzi si è messo alla prova con 44 coetane di tutta la regione nel tetratlo dove ogni partecipante è stato chiamato a rimostrare la propria preparazione tra più specialità di velocità salti lanci la somma dei risultati ottenuti da Falciani e valza la vittoria del titolo toscano il fine settimana dell'Algarezzo ha regalato anche soddisfazioni ai più piccoli della categoria esordianti che hanno vissuto l'ultima tappa del circuito provinciale dell'esordia di quella premiazione dell'intera stagione a Savona invece si è svolto il ventesimo campionato italiano vigili del fuoco di triathlon sprint hanno partecipato 34 vigili del fuoco da 15 comandi gli aretini che si sono classificati al quarto posto grazie anche alla buona prestazione di Francesco Nicolini ed Enrico Bucci hanno tenuto un ottimo piazzamento arrivando rispettivamente al terzo e primo posto nella categoria laureandosi campione d'Italia grande soddisfazione del funzionario Marco Covani che ha accompagnato i suoi atleti e del neocomandante Fabrizio Baglioni che si è complimentato con i partecipanti questa pera stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti